Contagi in lieve aumento nei comuni vesuviani. Nel comune di Torre del Greco, secondo il bollettino di ieri sera, si registrano 11 nuovi positivi di cui uno ripositivizzato, un numero significativo a fronte di 6 guarigioni. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati con 95 attualmente positivi di cui 19 ospedalizzati. Nel comune di Torre annunziata invece nessun nuovo caso di contagio da Covid-19 a fronte di 13 tamponi processati. Non si registra però neanche una guarigione. Sono 26 dunque i cittadini attualmente positivi. La percentuale dei nuovi casi negli ultimi sette giorni è pari all'1,91%, qualche punto in meno rispetto al dato regionale che si attesta al 3,88%. Grazie a tutti.